1. Brillantaxe, 2. Zaro P, 3. Commento Lewis, 4. Aldebaran, 5. Ubico Castagnada, 6. Black Mamba Sun, 7. Romantico Svedese. Seconda fila 8. Zippo B, 9. Brooklyn Breed, 10. Clariday Mag, 11. Acquatinta Fonte, 12. Clio, 13. Abracadabra F, 14. Zabul FI. Sesta corsa della giornata, Gentleman, un miglio per anziani di categoria D ed E, favori per il numero 2, Zaro P e per il numero... Zaro P riesce ad andare al comando nei confronti di Aldebaran che ripiega in seconda posizione, a largo, resta al momento Ubico Castagnada, mentre c'è l'errore la squalifica per Clariday Mag, imitato dall'atteso Abracadabra F. 13.8 è il lancio di Zaro P che resta al comando, affiancato da Ubico Castagnada, nella cui scia vediamo Black Mamba Sun, cavalli che vanno ad affrontare la retta delle tribune con Zaro P che deve difendere la posizione, ma all'esterno di tutti arriva sparato romantico lo svedese di Lino Lo Giudice che addirittura riesce a sfondare 45.1 ai primi 600 metri con Romantico al comando nei confronti di Zaro P. Per l'inesterno c'è sempre Ubico Castagnada, mentre Zabul FI veleggia in una pesante terza ruota un minuto e un baffo per i primi 800 metri da 1.15 con Ubico Castagnada che è ancora lì all'esterno e addirittura prova a superare il capofila romantico e ci riesce, dunque passa in avanti Ubico Castagnada al primo chilometro in 1.15.3, è rimasto un po' ingabbiato Zaro P ma adesso si è liberato e prova a venire avanti, ma a largo e incisivo anche Zabul FI che lo chiude in corda, dunque Ubico al comando, Zabul FI per linea esterna, in terza ruota arriva anche Acquatinta Font, mentre Zaro P in questo momento non ha la destra libera, battute conclusive con Ubico Castagnada che viene richiesto da Guido Gnoffo e prova a reagire all'attacco di Zabul FI per linea interna e Zaro P all'esterno di tutti, Acquatinta non progredisce più di tanto, non trova spazio, Zaro P e così all'esterno di tutti avvicina Black Mamba San, Black Mamba San batte sul palo Zabul FI, mentre probabilmente a largo di tutti è terzo al Debaran, ma andiamo a rivedere questo finale davvero appassionante con Black Mamba San e Bartolo Ingardia che svettano sul traguardo nei confronti di Zabul FI, non trova spazio, Zaro P, il gruppo si compatta alle spalle dei tutti, due a largo di tutti, c'è Aldebaran ed è Aldebaran che prende il terzo posto nei confronti di Brillantax, sfortunato, invece Zaro P, poco fortunata, poco incisiva, Acquatinta Font, vittoria dunque a sorpresa per Black Mamba San che non era certo fra i più attesi, aveva corso alla grandissima l'ultima volta e si è ripetuto in schema non semplice ma alla fine abbastanza favorevole, Black Mamba San, il training di Andrea Buzitta, i colori dello stesso Bartolomeo Ingardia, ottimo secondo Zabul FI, ottimo terzo Aldebaran in numeri 6, 14, 4, l'ordine d'arrivo da confermare della sesta corsa di Palermo. Grazie a tutti.